I lavori di asfaltatura procedono spediti, mentre nella notte gli operai hanno eseguito il primo intervento notturno in Via Roma, tra Largo Porta Maggiore e Via della Giustizia, questa notte l'asfaltatura verrà realizzata nel tratto che va da Via Arco d'Augusto a Via Palazzi. In contemporanea Bellocchi proseguono le attività in Via Toniolo, un'arteria stradale importante all'interno della zona industriale che collega Via Ottava Strada con Via Enaudi e chi da tanti anni attende di essere terminata. Avevo annunciato a inizio anno che il 2016 sarebbe stato un anno scopitante per quanto riguarda gli interventi. Effettivamente adesso si vedono i frutti, si vedono i risultati, tanti cantieri aperti nella città. Stiamo dando una risposta importante alla manutenzione delle strade, quasi 50 km di strade asfaltate e in più anche nuove strade. Questo è un cantiere aperto che darà una risposta importante alla zona industriale. A settembre partiranno altri 7 km di nuove strade. Stiamo per finire le interquartieri, quindi veramente risposte che la gente aspettava da tanto tempo. Sono convinto che nessuno avrebbe scommesso alle parole che avevo annunciato a inizio anno, quindi questi sono i momenti in cui veniamo ripagati dell'impegno e anche magari delle critiche che ci prendiamo in determinati momenti. Il primo cittadino questa mattina ha fatto un sopralluogo nel cantiere di Via Tognolo insieme all'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi. Il tratto è interessato dai lavori di circa 300 metri e il progetto prevede rifacimento della pavimentazione stradale e della rete di raccolta delle acque meteoriche. Ormai da 20 anni molti imprenditori di quest'area aspettano questo intervento. Prima c'era una strada in breccia, bianca, non funzionale anche al passaggio degli autoveicoli oltre che degli autotreni. Intervento che come tutti gli altri dovrebbe finire entro la fine dell'anno. Già da un mesetto che le ditte che lavorano per il Comune di Fano hanno iniziato i lavori, si può vedere già qualcosa. I lavori stanno proseguendo bene e quindi speriamo anche di anticipare i tempi della consegna. Questo è un intervento atteso e importante anche per la viabilità, oltre che per dare decoro a una zona industriale che comunque presenta diverse fabbriche frequentate anche da gente che viene ad acquistare e fare affari.